salve a tutti buonasera ben arrivati buon lunedì buon inizio di settimana salve 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 allora oggi prendiamo una piccola pausa dal mondo palla dal mondo palla dalla schiavizzazione di palle pokemon e creature innocenti per portare un nuovo gioco appena uscito e appena uscito che però è però promette tanto bene è una via di mezzo tra monster hunter e final fantasy e cose simili e di fare una fantasia soprattutto il fatto che il disegnatore credo sia lo stesso di fare una fatta sì comunque sia se non è lui è praticamente ecco che ricominciano a funzionare anche le scuregge di manu ciao manu salve salve ben arrivata e quindi niente quindi niente oggi bisogna portare questo gran gioco che sembra un gran gioco ma penso sia un gran gioco sono abbastanza convinto di questa cosa ahhh ho capito tutto merito di ghiozza di oggi ho capito ho capito ho capito mi è uscito uno strano messaggio su non direttamente suo bs ma su su mixed up di niam king e whatsapp che però non è uscito in chat che vuol dire merito dell'aglio sassino si sono sicuro aglio sassino più peperoncino la che cazzo era il kimchi kimchi ladies and gentlemen il kimchi kimchi buoni comunque che erano ragazzi buoni buoni se avete una lidl vicina andate subito a comprarvi iozza che sono veramente buoni noi ce ne siamo fatti al vapore ma uno spettacolo uno spettacolo uno spettacolo comunque niente non so cosa cazzo sia questo messaggio e whatsapp vabbè ok non ho idea di cosa sia non ci interessa non ci interessa comunque niente si diceva nuovo gioco io vorrei essere vediamo se lo dice da qualche parte su google chiediamo google ma l'illustratore di gran blue fantasy è quello di fan fantasy tic toc tic toc chiediamoglielo chiediamoglielo lui sono sicuro che saprà darci una risposta precisa allora gran blue fantasy relink art artwork art work ma artwork non è neanche ci interessa mi interessa sapere chi l'ha fatta chi è artist facciamo facciamo tipo character design design ebbene si ideo minaba che è lo stesso di final fantasy era proprio lui l'ho riconosciuto che occhio che occhio signori che occhio preciso chirurgico chirurgico quindi tocca fare questo nuovo gioco che promette tante cose io spero che sia all'altezza di monster hunter se lo dovesse essere penso che mi ci chiuderò tipo mille ore su su monster hunter quindi se se è anche metà di quello che che è monster hunter con questo combattimento probabilmente il doppio mascio lo diciamo e non facciamolo il credere di essere così tanto importante allora mi ci chiuderò seriamente molto 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 in modo molto molto brutale comunque bando alle ciance avviamo il gioco grab e controller e kickback che perché va bene preso preso il controller preso il controller perché sei in queste sono le cose che io sbaglio sempre perché non avvio il gioco prima di andare in live in questo momento il gioco è in finestra io non so perché è in finestra vediamo aspettate aspettate datemi un secondo signor filo dispiacebbe non arrotolarsi voice language non c'è il giapponese sì c'è il giapponese questi suoni capi questi suoni i jrpg sono già tornati in tiro di vent'anni porca troia ok sì ecco perché dammi i 2k grazie ok sì ma tutto molto bello ma mi lo daresti in food screen intanto mi condivido quello che sto vedendo anch'io sono già emozionato sinceramente presseni button grazie allora return se belli sono bellissimi sono stupendi ok opzioni mi daresti gentilmente il full screen non windowed full screen borderless food screen no borderless food screen non c'è ma porco cazzo aspetta borderless ok perfetto ora ce l'abbiamo molto bene cos'è miam king grazie mille per il follow benvenuto benvenuta ben salve ben arrivata ben arrivato ciao come stai tutto bene frame rate 120 perché noi siamo dei cazzo di sboloni tutto sta qua tutto sta ultra blur off perché ci sta sul cazzo ok molto bene dovremmo essere a posto così ok bene signori e signori ladies and gentlemen è tempo di cominciare new game uh salvataggi ma no ragazzi sto tornando indietro nel tempo comunque eh io sto letteralmente tornando indietro nel tempo queste sono tutte schermate cose che non vedevo più da anni cazzo cazzo vediamo fuoco brucia fuoco io non ho messo musica oggi ragazzi perché volevo sentire un pochino la colonna sonora di questo gioco com'è e poi in caso ci rendiamo conto che fa cacare metterò la musica la prossima volta però per oggi ci vediamo ci sentiamo quello che ci dà ci ad offrire il gioco per sette giorni quindi volavano grazie modestamente è tutto merito mio lo sappiamo già improvvisamente skies of arcadia per chi conosce questo gioco li voglio quel gioco li voglio bene a new chapter in the story is about the game ok ok then what do you say shall we start writing ma certo ma certo è ovvio per forza siamo qui apposta siamo qui apposta lasciateci scrivere io non vedo un cazzo non vuole dire non vedo un pochino mamma da ca creazione dei personaggi let's go vado final fantasy oh raga final fantasy in pieno proprio brutalmente final fantasy allora maschietta o femminuccia noi ci piacciono le femminucce quindi la facciamo femminuccia che domanda stupida gita allora come da migliore tradizione dei jrpg di una volta io lascio il nome originale del personaggio gita a per curiosità sempre tomask sempre gita si chiama no si chiama gran gran gita no 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 ho sbagliato gita 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 ok gita your parents name can be changed later ah ok possiamo cambiare appearance quindi interessante non dimenticare niente no non devo fare nient'altro giusto non devo fare nient'altro ok let's go gita andiamo in gita mo perdi probabile ciao robbie guarda gita gitana è la gitana è lei incredibru che bello genesis guarda non c'è genesis solo catalina zega grande una grande zega zega grande zega grande lo so che è il tuo posto preferito ero sicuro fosse il tuo posto preferito so da na comunque da quello poco che ho visto finora sono finalmente riusciti a dare una degna rappresentazione 3d diciamo di quei disegni perché veramente sembrano quasi quei disegni portati in modelli 3d bellissimo muovi con questo controlla con questo va bene incredibile cioè sembrano veramente i disegni di quel tizio fatto a modello 3d veramente bello guarda le ombre sulla gonnellina della tizia o anche gli stivali sembrano proprio i colori le colorazioni utilizzate nelle art di quei disegni è fighissimo bello si si andiamo andiamo salve quindi c'era la stessa grafica il picchio si ah ok giusto io non l'ho giocato è più che duro per cui non avevo questa conoscenza pregressa è bellissima è bellissima è veramente bellissima cosa c'è alla fine del mondo un gigantesco rustico un gigantesco rustico c'è alla fine del mondo un rustico lo dico io vedo se la demo ti funziona vedi controlla se la demo ti funziona fammi sapere perché così poi facciamo piu piu bambum gita e sta lucia l'isola degli astrali e sta lucia e papà let's start a brand new adventure ah che belli però anche l'effetto di Stich bello 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 ara rosetta la stelle di mai che bello che bello è un giorno principale parla parla a una voce a questo punto ero quasi convinto che non l'avesse avuto non avrebbe avuto ehm si e che maggi ti raffetto in giallo mamma adesso andiamo a parlare con il tizio da sopra questi posso farci qualcosa salve signor pistolone ma da che pettorali addominali che ne sto dicendo ruben ciao ruben ciao grazie mille per il ride benvenuti a tutti ragazzi come state che stavate facendo ti stavo guardando prima ho visto che stavi facendo react di video come va come va ciao max bella sera buonasera salve a tutti come state come state come andata la live che si dice che si dice come andata la live ciao ruben come stai uuuu non mi ahahahah andate tutto a posto vi sei divertiti bene bene io ho appena cominciato oggi ehm ho cominciato questo gioco qui che è un mezzo Final Fantasy mezzo Monster Hunter e tante cose belle io ho rischiato il banno un paio di volte oh no che hai combinato che hai combinato cosa hai fatto guarda che bello shout out guarda ciao leo salve salve ragazzi come state come state che si dice benvenuti a tutti benvenuti a tutti me lo spiega max mex spiega mex dai sentiamo che ha combinato che ha combinato dai forza che se non lo banno a ticce lo banno io dai che ha combinato dimmi ditemi voglio sapere voglio sapere che cosa ha fatto quel pazzo maniaco grossi rischi grossi rischi enormi rischi Ruben ma perché ti prendi rischi ma di copyright o di visualizzazioni di cose che non devono essere viste su Twitch è un'arma eh sì un'arma letale aia strike incoming strike no dai secondo me non ti prendi nessuno strike tanto tanto e anche se fosse ne devo prendere tre per cui pazienza no pazienza no ne devo prendere tre niente prendi uno poi passa come il raffreddore infatti infatti signori di Twitch signori di Twitch volemmo bene al Rubenito che bello mio c'ha tanti impegni da non può streamare quella volta che stream potrà farla alla cacata no sì che potrà farla dai signori di Twitch siamo buoni che Rubenito è bravo Rubenito è molto bravo e non vuole fare danni vero Rubenito bravo Rubenito d'altro hai fatto una live bella lunga io stamattina ho acceso il pc tu stavi già in live poi sono uscito ho fatto tutti i giri di questa cazzo di mattinata ho pranzato ho cominciato la live tu stavi ancora in live cioè complimenti quanto hai fatto sei ore sei ore e mezzo minchia bravo bravo cioè quasi quanto la maratona dell'altra volta senza essere una maratona però complimenti bravo io non credo di riuscire a stare sei ore e mezzo in live sincero Enze non guardo che te lo spoiler tanto ho appena cominciato quindi non ti spoileri granché ciao Enze come stai? dalle 9 madonna no io non ce la farei io non ce la farei mai nella vita sei ore no no ce la posso fare davvero serio non ce la voglio troppo giocare compralo guarda se lo compro non so se c'è i crossplay perché se lo compri ci possiamo giocare in multi che secondo me questo gioco giocato in multi è una turbo figata fotonica a motore più o meno più o meno ciao Peppe come stai tutto a posto ben arrivato oggi stranamente andava grazie a me sempre giocare mi seccavo giustamente ci sta ci sta hai fatto bene hai fatto assolutamente bene Enze magari informati sul fatto se esiste un no crossplay per questo gioco perché io ovviamente l'ho preso Giulia può essere che lo prenda c'ho un paio di amici qui in chat che forse lo prendono quindi magari riusciamo a fare qualche team completo andiamo a fare un po' di spacchi culi e cose molto belle molto divertenti quindi fammi sapere soprattutto se c'è crossplay vorrei sapere è la cosa più importante di tutte la cosa più importante di tutte ma non mi fai uno shout out anche Enze per favore pretty please e quindi niente grazie mille per il ride Ruben grazie grazie e adesso continuiamo la nostra avventura appena iniziata proprio fresca 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 allora che cosa ci aveva chiesto questo ah si sta guardando sta scrutando l'orizzonte qualunque cosa arriva vicino alla scippa l'ammazzerà male grazie Eugenio grazie Eugenio sei un figlio Eugenio Granblue Fantasy è un RPG un JRPG in stile un po' Monster Hunter un po' Final Fantasy non lo può del genere co-op multiplayer co-op molto molto bello diciamo la storia dovrebbe essere interessante ok ma la cosa principale poi l'endgame dove ci sono vari ride contro boss enormi cose bellissime noi facciamo pipipa multiplayer quindi se riesco a beccare un paio di persone che giocano a questo gioco magari si fanno delle super raidate pazzesche che levati molto bello comunque se ti piace il genere secondo me è veramente un bel gioco però ancora con questo vado vado su sentimento lo sto provando adesso per cui magari in realtà non lo è ma secondo me lo è ecco perché si mangia le carote per poter guardare meglio l'orizzonte con un occhio solo questo è il vero motivo scusa scusami Eugenio hai ragione ok mi raccomando Eugenio siamo quasi arrivati allo Sky Domo speriamo che questi sono lasciabbi un hotel perché sennò ok quindi dove andiamo adesso ah ok stiamo solo spettando oh ah sono di Ratalos no non sono di Ratalos di Ratalos sono molto più grossi ok time to fight si corre ok allora triangolo per l'abilità unica del personaggio se mi unica attacca è be charged by holding up the button like captain ok quadrato per attaccare normale e posso mixare con il triangolo va bene perfetto ok quanto è duro sta di Verna meno male che non sta attaccando aerials incoming dungeon when I flow close red watch out guard or dodge parlo full attack ok molto bene lb per parare ok per doggiare lb per parare ok ah c'è il lock molto bene il lock ci piace ok 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 weee morto cine manina andiamo tizia che evidentemente fa cosa d'acqua prime evil dragon child of flames bamuts così dal nulla un bamuts ok fico fico no 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 e niente ok mi sembra un filo esagerato per trevi oh oh bello bello ficcata non vorrei dire però ficcata tu dove cazzo stavi scusami è rimasta ehm si sta ehm si è incazzato bamut 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 siamo amici noi amici amici non mi guarda no no bamut no seduto bamut seduto oh no oh no come dire bamuto toste bamuto toste oh oh io avrei appena cominciato il gioco per dire mi si è incassato il bamut non vorrei dire eh ciao ciao va bene va bene così posso così ahhh salve salve aiuto no 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 ahia quando ho colpito no 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 ouch ah calma di te però anche meno anche meno bamut anche meno e fa quasi morto ah ah così mi puro no 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 bello ci sono i telegraph degli attacchi chiedissimo no 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 io sono un petto da una parte all'altra ma simbolici devo curare no 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 ma calma che anche meno ok mi sono curato no 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 non mi piace no 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 questa nave non so quanto durerà ancora io non vorrei dire ma pronto bamut tra l'altro si chiama sto a fare ancora più capi si ah salve vogliamo se bene bamut vogliamo se bene no 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 Re gameplay aiuto No 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 anche meno anche meno Bamult anche meno Sì ma cos'è che stai facendo tutti grazie Ti avvisa che stai curando no tipo Ah ah dov'è No 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 Credo che dobbiamo comprare una nuova nave Eugenio non vorrei dire Eugenio sa ma mi sa che stiamo per fare una fine orrenda Skyfall Let the sky fall Ehm ma che dobbiamo fare? Ah Ah Sì Let's go Let's go Ok Si è calmato forse Torna dentro la pokeball Ehm la palbo Ehm la posto 2 Accuccia Ok lei praticamente è una pokeball vivente Se lo fosse Ah sto a posto Sì guarda qua la nave Sto a posto mi sembra sì Tranquillamente Sto a posto Giù dalla nave dai Un altro un altro un altro No niente Dovamo fare la catena La catena di persone Ciao Eccola Un altro un altro un altro Giù un altro Giù un altro Ciao Ciao Cioè mamma tutta quella roba sopra non l'hai colpita Di scoperta Dungeon Allora Ehm Ok Erpal Erpal We 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 Pal Allori Ok Gita New Subvention Photocross Ok Let's go Let's go Capito Ti sei appena Non so se l'hai visto Se hai assistito Ti sei appena perso Un combattimento fichissimo Contro Bamut Questo è stato bello proprio Sì 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 Comunque mi sta piacendo troppo I modelli dei personaggi Mi piacendo veramente troppo Sono bellissimi i vestiti Il modo in cui sono stati parti Da chitana Esta Lucia Non vedo l'ora di trovare Esta Lucia Sì, ma io voglio sapere Perché Bamut si è incazzato Tutto questo Sì vero Non ti incazzare Non ti incazzare Sto facendo il pisolino qua nell'erba Vai bambino La tua mano è gigante comunque signorina Non vorrei dire È una mano veramente enorme Ok Ok Sanda Pleddru Oh che figa da un qua Guarda che bello gli ambienti Sì sì Morri un attimo Guarda che figata però Bellissimo Cioè è proprio pieno di dettagli Pieno di cose Bello Bellissimo Vediamo questa cosa raga Mi è tutto scemo Guarda il fogliame pure Che bello Una cobblestone Abbiamo in grado Ciao Carina anche la musica Ci sono fiori Questa parte c'è Un'altra cobblestone Pietre Stiamo trovando delle pietre Nobblestone Ha scelto la protagonista Sì Che figata Sì sì Arrivo Calmati Lasciami esplorare Guardare Non è non vuole buttarmi sotto però Un'altra pietra Un'altra pietra Cioè sembra fatto acquerello Sembra fondale ad acquerello È bellissimo Non so se rende Nella stream Nel player Come si vede Però Vi giuro È proprio bello da guardare Sembra un'illustrazione Un'illustrazione Fighissimo Ovviamente l'ho riuscierto La protagonista Io scelgo sempre personaggi Personaggi Se posso Liria No Ti salvo io Liria La donna Pokéball Anzi la ragazza Pokéball Allora Presto Presto Le tifre Le camera Donate Per quello De target Ok Ok Perfetto Era quello Che volevo sapere Non mi viene Mi viene da doggiare Con il cerchio Che palle Che fastidio Non parate No Bang Quindi quadrato Quadrato Triangolo Triangolo Fa stopina Altri Va bene Ok ok Nuove cose Allora Premi R1 E Uno di quelli Per attivare la skill Ok Skill Va bene Allora Multiplastication Perfetto Quindi così E così Ok Senta Nice Virata Po No no Sto qua Sto qua Tranquilla Tappo Sto Po 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 Ma le lacrimucce Pura Guarda gli occhi Che figata Sono pure quelli Sembrano disegnati Bellissimo Comunque la grafica Mi sta piacendo tantissimo Voglio Sta piacendo davvero Tanto 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 Ok Ogni personaggio Ha la sua support skill Va bene Quella del capitano Chiamata Adept Arts Che potenzia Le abilità E le Le Scrivabilità Attivate Ok 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 Premi Quello Per usare Questa L'avevo Già Visto Tra l'altro Bisogna Tenere Premuto Sì Ok Andiamo a cercare Il resto Della Crev Let's go Andiamo Liria Andiamo Pokeball Girl Un oggetto Un oggetto Viola Sarà una pietra più grossa Archives Spiegare Un'altra pietra Un'altra pietra Io vorrei sapere che servono queste pietre Qua c'è un oggetto segretissimo Oggetto più forte del gioco nascosto No Però c'è un oggetto Esperienza pregressa in anni e anni di RPG Tempestone Tempestone Questa è la pietra di Tempest Non c'è Tempestone in chat Mannaggia Tempest dove sei? Abbiamo trovato la tua pietra Una sfigna Soldi 82 rupie Elemental properties Ogni personaggio Il tecchio di personaggio Ha una proprietà elementali Quella di questo personaggio È il vento L'elemento è rappresentato Da un'icona colorata Va bene Il capitano è il vento L'avevo già visto già Già visto già I nemici prendono più danno Dall'elemento Di cui sono deboli Va bene Ok Ma che strano Che casualità Bang Ma perché mi ha colpito tutti E ho la sua moglie Vaffanella Bang Aia Vieni qua Non ci arrivo Yeah Alla Bang Ok nice Non ci arrivo Eh Preso Giù devi stare Bastardo No Non ti permettere Scime Level up Let's go Nice Nice Ok Let's go Yo Yo Io non ho capito una cosa Però la barra arancione Sono XP a questo punto Mi sa che stamina Non ne abbiamo 200 Cos'è? Venti Non lo so Esperienza Penso a questo punto Ah yes Ma rompiti però No Non si rompe? Oh Cade Salve Andiamo a vedere che c'è là sopra Prima cosa Uno scrigno Esplorare ogni angolo Sempre e comunque Every single angolo Per caso qui saremo attaccati nuovamente L'angio Catalina C'è un costo di droide Salve Solo? Niente di meno? Oh Si Questa è una versione scema del Diablos Di Monster Hunter Lo ricorda Parenka No non mi avrai Ti avuto? No non mi avrai No non mi avrai Nice Nice Go Grande Catalina Vieni qua Let's go Feel party Andiamo andiamo Spacchiamo il culo Vieni qua Bastardo No mi ha colpito Pezzo di merda Non mi avrai Non mi avrai Ho detto Se come penso Non abbiamo stamina Sono super finisce Ok Link Link attack Stang out Fins up Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Revenger An action Such as Link attacks Rise the party Link level If all party members Are from a link Attack 100% level You can get Pro remuff Ok Nice Bello Bello S'encazzato S'encazzato Boss Bar fix up Takes damage In pervert drive Letting berserk Ok Conversely Boss mod Bar depletes Take damage Perfetto Once The bar is the president Break Ok Perfetto Perfetto Di un'app Chiara Di questa Come se Di questa Di questa Di questa Di questa E non ti andare Però Ha smottuto la Grappa Link attack Link attack Uh L'ho schifato Per miracolo Puro miracolo Ragazzi Puro miracolo Allora Premendo Quei due Devastating attack Lo scappando Arta Ok Sotto la mia Ah Ecco Cos'è Quella Barra E questa Cosa Nice Fallo Che cos'è Che cos'è Che cos'è Ok, immaginatevi fare una roba del genere in multiplayer, no? Ti sto facendo il cazzo di raid, fighissimo, stai spaccando il culo con gli altri unici di voi E ti coordini per far ste turbo figate Ah! Mi servono tre persone con cui giocare sto cazzo di gioco Su, ora, adesso mi servono Press quella parte... Ah, ok, questo serve per... Ok Ok, i gambit sarebbe come... Aia! Questo mi faccia male Let's go! Abbiamo spaccato il culo Questa specie di diablos Danjo, gita E niente È arrivata Rosetta Rosetta? No, sì, Rosetta si chiamava Era proprio Rosetta Grazie, Rosetta Io pure voglio sapere che è successo a Bamuk comunque in tutto questo Sì, sì, andiamo a Grand Cypher Non so cosa sia, però andiamoci subito Il nome è bello, quindi andiamo a Grand Cypher Zega Grande Let's go to Zega Grande What about Grand Cypher? Injaneca Le mele vuoi? Cazzo sei Ryuk? Ecco Quello è Bamut, eh Quello non è il suo stomaco Non è lei che c'ha fame Questo è Bamut Ora capisco perché sei incazzato a Liria Del cazzo Dai da mangiare a Bamut, no? Che poi non ti incazza Ti distrugge la nave Brutta, deficiente Eh, è Bamut Ok, let's go Non ci sono spoils vari ed eventuali, no? Di questo boss, no? Ce l'ha già dato, in pari, va bene It's a miracle Beh, sì Beh, sì Una pietra No Una pietra di Tempest Dove sei, Tempest? Abbiamo trovato le tue pietre Qualcuno lo avvisi che abbiamo trovato le tue pietre World Shroom Un bel finghetto Ah? Oh, io continuo a dire Ditemi quel cazzo che volete Mi sto flashando troppo sui fondali Sulle Sull'illustrazioni in lontananza Sono stupende Allora Liria Una giovane ragazza Che potete controllare Primal Beasts Con share the life Va bene Lifelink Bond Forma di Liria Spada Debbiamo inserire la tua gita Va bene Rosetta Una donna misteriosa Che guida gita Ok Quanto si sta facendo un po' di background Di tutti i vari personaggi Quanto sono belle L'illustrazioni Madonna santa Ti stai ingozzando di latte? Ah? Ah? In che senso? Zega grande In che senso ti stai ingozzando? Perché? Che vuol dire? Colpa dell'aglio Che figata Penso che continuerò a dire questa figa Questa cosa è per tutto il resto del gioco Finché lo porterò La grafica è troppo bella Oh boy Eh quella non ce la vede più voi Porto Breeze Porto Breeze Sì andiamo a mangiare Così Bamut Non rompe il cazzo più Magari Possibilmente Pino che la prossima volta Ci ammazza tutti quanti Per dire Ho fame Va bene Fatti i cazzi tuoi E pensai I tuoi Fermagli Piuttosto Ecco Sì e Bamut Continua a darvi dei segnali Evidenti Di cosa dovete fare Zitto Ryuk Umbriacone Umbriacone Ok Vuole andare a bere Lascia andare a bere Che cazzo Yare yare Cos'è Ok Allora Esploriamo un po' Questa Folka Frontier Town Folka Frontier Town Ciao Quello mercante Sierocarte Sierocarte Il mercante Sierocarte Il mercante D'arte E' uno scioglilingua Sierocarte Il mercante D'arte Ha un pappagallo Comunque Sierocarte Il mercante D'arte Sierocarte E' un Famoso Mercante D'arte Ok Let's trade Abbiamo Abbiamo Le monete Di Raffaele Abbiamo Le monete Di Raffaele Possiamo Scambiarle Per Scagli Di fortuna Allora Devo per forza Prendere Se Forte Di Shard Bambana Tutte Sierocarte Il mercante D'arte Quanto c'è Da parlare Un Blacksmith Dove Possiamo Appropriare Le nostre Armi Siero Blacksmith Si chiama Come si chiamava Ho fatto un tempo A leggere Davvero Minchia Grazie Usiamo le forti Shard 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 Che abbiamo Appena Preso Guarda Caso Per Appidare Ma io Non voglio Appidare Le armi Perché Non mi va Adesso Secondo voi Secondo Ok Secondo Domanda importante Secondo voi È un caso Che l'arma Di partenza Si chiama Partenza Io non ce la posso E niente L'arma di partenza Si chiama Partenza Mi sembra solo Giusto Rucalza Flintspike Little Witch Chapter Nome più generico Possibile Draze Egaism Questa è una figura Va bene Potenziamo L'arma di partenza Che si chiama Partenza Level Up Il numero di scelte Una 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 Perché Non lo farò mai più E vai Ok Mi stai spiegando Come funziona Una mappa Grazie Oh interessante Allora facciamo subito System Immagino Infatti Save Yes Ok Grazie per aver potenziato La mia Bellissima arma Allora Dobbiamo parlare Con un po' di gente Sirocarte Mercante d'arte Ci vediamo Più tardi Io-chan Dimmi Io-chan Decisa Ah no E che cosa dovresti essere Esattamente Make-up Sì Pedofilia Pedofilia Portami via Qua La bimbetta Si deve fare Bella Bella mia Grande Rosetta Grande Rosetta Rosetta è una che ne sa Can't wait to see the new Liria Vai Brava Brava Ok Abbiamo parlato con io Adesso andiamo a parlare con chiunque sia da quella parte Ciao 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 bambino ciao E lui? Quante grosso Signor cornuto Lei è enorme Che non si può parlare con tutti Mi chiedo una parte mi sta bene Catalina Sì abbiamo capito Questa non fa altro Lei si allena E basta Catalina Oh 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 Vabbè I don't mean to brag E parte la canzone di Paramore Misery Business Subito Gita o Catalina Probabilmente Catalina Ok cosa Manu Certo Sparri match Voglio Why not both Sì dimmi Catalina Voleva contro Ah sì eh Sì Eh lì voleva Ok Character Va bene Questo abbiamo capito Ah questo è lo skill tree Ok Now Mi sembra un ottimo momento Masteries Ricarica Powerhouse Sare di The Capitan Dangeo Dangeo Gita Each mastery node Unlocked by mastery points Select armor Ok Ok Quindi questa è una skill Di quelle che si attivano Con R1 Immagino Ah Infligge Defense down Perfetto Ok Congratulazioni Ok Abbiamo altri punti Di questa cosa qua Sì Però non so se sono condivisi Con gli altri Sì sono condivisi Con gli altri personaggi Quindi Vedremo con calma Che cosa fare Giusto Next Questo invece Un altro signor cornuto Gigante Side Ah Side Questa Abbiamo anche le side Questa Nice Allora Ma this big name Treasure Hunter Almost behind me Va bene Perché ha preso una freccia Nel ginocchio Sicuro One too many blunders Più o meno There is something A part in the day After Ok Accetta la missione Perfetto Ma come faccio io Side quests You can also use To travel Ok Nice Go to client Ma Dove Che si svolge Esattamente Questa missione Sì Come no Non so come Ma lo farò Lo farò Giuro Ti giuro Te lo prometto Forse Vabbè Lo scopriremo tra un po' Continuiamo la nostra Esplorazione del paesino Non so Non so perché le mie casse Hanno deciso di gracchiare Da pc E andare bene In 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 bluetooth Probabilmente Qualche cavo Occhio dire Qualche cavo Questo sta Embriagando Controlla i cavi Che collegano Le casse Al pc Mining Oppressions Ok Primeval God Perfetto Certo Andiamo a truffare la gente Che ci vuole Danjo Ciao 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 Gita Ciao Gita Prima Alla Veloce Ho provato Ma niente Domani Provo a staccarli Tutti E rimetterli Provo Perché probabilmente È possibile Che si sia Deteriorato qualche cavo Quindi magari Va cambiato In Alla Voto Voto S啓 Ave Sì Sono Ah, Grand Cypher è la nave Ok, non l'avete capito Come sai No, certo Potevi dire da mangiare la bella Se non si cazzava, eh Però Io lo so Non rita da mangiare È normale che si cazzano, per rivedere te L'ora di One Piece Ah, è possibile che ci sia qualche Dopodoro in comune Ok 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 Manca Rosetta Andiamo a cercare la stella di Rosetta Questo è il nostro blacksmith Questa è un'altra side quest Un'altra side quest Blast those goblins Ok Assolutamente Assolutamente Io vorrei capire dov'è che bisogna andare per fare queste missioni Ma tipo c'è una mappa Ah, oh Abbiamo gli stickers Fico Ah Ok Ma tipo una mappa Qualcosa per capire dove cazzo è che dobbiamo andare per fare queste side quest No? Chiede troppo? Vabbè, lo scopriremo Rosetta-san Rosetta-san Noi voglio sapere Rosetta è sozza Guarda che tette Guarda la Bubba proprio giganti Noi non devi stare zitta ferma Non è da mangiare a BAMUT Prima che ci ammassa tutti quanti Che cosa devi fare? Vai, fai il diario Le memoir Chronicles Della Pokeball Girl Brava Eccellente Questo è uno scrigno gigante che possiamo aprire? Sì No Ci serve una chiave di argento che mi sa che non abbiamo Non c'è la chiave Allora Aspetta No Voglio prima capire queste side quest come si fanno Vediamo Forse devo per forza andare un attimino avanti con la storia Per poterlo fare È possibile È più che possibile Ma io ho visto Ragazzo sta side quest Sta side quest Ecco qua Salve Hai finito i cosi I funghi Va bene Avrai i tuoi funghi Prendiamole tutte queste side quest Almeno Ho qualcosa da fare Oh no Ok Ho qualcosa eventualmente da fare quando non sono in live Perché la storia sicuramente la continueremo in live Però almeno posso farmi qualche side quest Imparerà a giocare No Do you like crabs? Boh Ok Abbiamo preso tutte le quest This boy rescues rare creature card Weeping sir Ok Dice una cosa viola A new entry Ma se potevo pescare Forse non ancora E niente Non possiamo fare nient'altro Per cui andiamo dai nostri Compagnero Andiamo dai nostri Compagnero Se portiamo avanti La pressa Principale Visto tutto Visto tutto Visto tutto Già riparata? Ah no No Ancora no Ok Sì You sprung to my rescue Sì Sì Ovvio Sei una Pokéball Girl, per forza devo Prego, non ci dica Sì Va bene Ok, dobbiamo catturare uno di Pokéball Eh Mi vedo, mi vedo gioco E non ti sei ancora toccata Pensa te Ciao Rosetta con le tette Buba Rosetta Se metto la grafica al minimo Che tanto non cambia niente Riesco ad avere 100 FPS Da fermo Dal tutorial Sulla nave Da fermo Non male, non male Prendiamo che scende una 40 Ok Devi vedere durante la boss Che fight che c'era all'inizio Se Fetti di enzio Fondamentalmente Vedi quello 40 FPS è ancora giocabile Penso Ma Tidus Più tardi Sì, sei tranquillo Fammi sapere comunque Mi raccomando E niente Sì che sei una cazzo di lucertola Si vede Dici Non so eh Cool dragon Non lo so Rick Non mi sembri cool Per ora Forse tra 200-300 anni Dai Introduciti Tidus Eh Tidus Non lo so È un tornado È normale Che vi colpisca il villaggio Così da nulla Nani Belle quelle Lori Molto belle C'è il personaggio Super buba qua Sono sicuro Che tra poco Lo inquadrano Ciotto Ma a te Dov'è Dov'è Eccola Super buba Eccola qua Guardala Guardala C'ha più buba Che altro Guardala lì Ok let's go Chase after the man Let's chase Andiamo a vedere questo Spirito Cosa cazzo era Bestia primordiale Super strafiga Voglio già picchiare Voglio picchiare Voglio picchiare Voglio picchiare Il vento era tipo Woof Così Eremen Ok Dai Calmati Calmati Flustered man Calmati Dai Buba Buba Hoshigami Sama Nah Correte Nankaki Knackse Nah Bahamut Ma avare Tano Mukankei Janas Soda Anno Megane No Hito Nankas Sitte Ne Tuite It Mina So Da No Do Sulu Dan 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 Andare a picchiarlo Allora We can't ignore No assolutamente No possiamo No 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 Già mai Non è che voglio picchiare Menare le mani No Exactamundo Non sentivo Exactamundo Da boom Un miliardo di anni Zitta Pokebook Ok 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 Please Vogliamo picchiare qualcosa Di per favore Assolutamente Vediamo Noi ce n'abbiamo una dentro di lei Siamo cacciatori di bestie primordiali qua Siamo come Ash Ketchum per gli Eidolons Prossime Shiva Chi è? Da nuovo Dragonico e Gigante mi è uscito un pochino strano Definisci strano O dammi un nome No non si guarda Cavaldonato non si guarda in bocca Ora devo tipo scegliere le mie parti Immagino qualcosa del genere Eh si Allora Ah figo ce l'ho Io ne ho catturato uno Da qualche parte C'erano due in realtà O tre No due Due no di quelli Up to four characters Che mi parte Tra l'altro ha fuoco 4 Infatti lo uso nella base Per Per da fuoco tutte cose Allora Scegliamo il nostro party Party formation Ok Capital must win the party For the min story But you can play And i character you like Molto bene Allora io per forza Ah ok Scusa Ah ok Perfetto Allora Io voglio Il boss del 45 Sì esattamente Vabbè no Ignis non è il boss del 45 Quello normale è quello 45 Io nel party E Mi sa Sì La stela è di Rosetta Perché è un support E poi c'è le buba E quindi noi vogliamo Sì è il support Che le buba Poi un party Full girls Full Full waifu Minimo Scusate Sì eh Assolutamente sì Dobbiamo fare tutte le secondarie possibili Ok 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 Va bene Finalmente buba Esatto Esatto C'è un sacco di buba Finora Take various quests From the quest counter Invaluable rewards Va bene To play quests With other players Ecco qua Come si fa In multiplayer Si prendono le quest qui Ecco qua All in session E si gioca in multiplayer Very good Cruelians Rafili So che di queste Va bene Ok va bene Qua ci sono Le quest Divise per risola Difficoltà Ok perfetto Per il momento Andiamo avanti Nella scuola principale Però Andiamo Ok Sì Voglio picchiare Dai Good to go Vai Let's go Hai Let's go Let's go Let's go Alleluia Bubba Lots of Bubba In realtà per il momento Non Lots C'è un personaggio Che ne ha Particolarmente tante Però sì E che per ovvi motivi È nel nostro party In questo momento Uccellini All'autopilot Quella cosa Bello No Assolutamente no Zero proprio Non me ne può fregare di meno Sei un prete Io sono io Bubba Le si chiama Bubba Non Rosetta Dancio da Invece Mister E' Germano Questo Ma che stai facendo Sei un prete Abbi un po' di contegno Cazzo Eh infatti Ma Vedi tu Non lo so eh Anno Signi Vedi tu Non lo so Qualiciel risate si guarda folca la città questo è il poschetto siero cartel mercante d'arte rosetta buba eugenio è un giga chad si vede eugenio il giga chad tempesta all'orizzonte bene beh non lo so Rick bestia del genere va in berserk penso possa andare particolarmente bene eh così per via a posto depart ed oggi vai che bello comunque ci hanno messo un sacco di attenzione ai dettagli in questo giovane eh già non ci bella cosa va a dire non ci bella Che cosa? Eh, sì, c'è un tornado, ce l'ha detto già Ok, dai, dai, finalmente si picchia qualcosa Let's go, let's go, let's go Siamo pronti Siamo pronti Ciao Ciao lucertola Forse ce ne sbarazziamo No eh Ce ne sbarazziamo mai Sta cazzo lucertola Questi non stanno molto bene E invece Questi sono i superstiti Mi spiace Andata così Loran Siamo qua per Per salvare Tutti quanti Save the day Let's save the day No no tranquillo Guarda tranquillo rimani qua Ci pensiamo noi Facciamo noi Ci pensiamo noi Sì sì Tranquillo Tranquillo Ci pensiamo noi Prego Vattene 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 Certo Non ti preoccupare Ci pensiamo noi Sì Grazie Che cazzo è quello Bravo Renditi utile Lucertola Transceiver Addirittura Grandissimo No Loro Sì Va bene Ne faremo un uso Bellissimo Ci sentiremo E' no Ok Let's go Matte Eh Che è Special Laura Gives the monster That day Va bene Prima di fine Crystal Con questo Ok Perfetto Ora Che gano Full Heels Departime Ember Ok Bello Perfetto Comodo Comunque Mi piace Che ha taggato Robu Quando doveva Taggare Lory Ma ok Eh vabbè Sono dettagli Diziamo che Già Va bene The Study Choice For In Situation And Support Perfetto Perfetto Lo sapevamo Ok Va bene Perfetto Save the day Perfetto Let's go Ma se io per esempio Volessi combattere Con un altro personaggio E non col personaggio Principale No Faccio esempio Stupido Come devo fare Devo fare Tipo Quante buba Vedo Vedo tante buba Eccola Buba Lei buba Allora Se io potessi fare Tipo Il Young Mage Esperto Bene Elegant Lady Shaker Strong Spell Ok Quindi c'è anche Le cure Molto bene Quadrato Ball of Magic While Triangle Is Favida C'è Gran Term Magic Forte Ok 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 Quindi devo avere le pallette Molto bene Ok Va bene Vai Giochiamo col maghetto Arriviamo Lasciate in pace La signorina Lasciate in pace Che brutto che sei Maledetto goblin Giochiamo col Giochiamo col Giochiamo col Burla che vedo in chat Sono frizzi Sono frizzi Sono frizzi In questo momento Bellissimo Che figo Me l'hanno messi tutti vicini Bello Nice Let's go Let's go Let's go Ok interessante combattere col mago È abbastanza strano Fuori divertente Mi salvo io Sì Siamo stati noi Ecco qua Siamo troppo brave Andiamo a salvare subito Un altro Settamente Immediatamente Adesso volevo provare La buba girl Buba girl No Proviamo Buba girl Rosetta Una donna Allora Incarnation of Primal beast Rose queen Ok Beautiful Rose Ok Perfetto Level up by hitting false Boosting Derefine Rosetta In second Ultriangolo Partire Interessante Interessante support Proviamola Soldi Anche Mastery Point Nice Qua possiamo Ok Salviamo Eccoli Non mi vorrei Non mi vorrei C'è altri? Morti? Ah, quindi così posso decidere dove Piantare la cosa Figo, mi piace, perfetto Ok, let's go C'è qualcosa di là E c'è qualcosa di qua Ma di là posso scendere? Non di qua, sì Ok, quindi abbiamo due strade possibili Facciamo prima questa Salve! Oh! Ma? Ah, la script permette di mettere una Una piantina a livello 2 Nice Bello, questo personaggio Poi c'è un salvo in qua Davvero figo Poi c'è le torrette praticamente Immagino queste torrette contro i boss Siano estremamente utili Ok Buba ci piace, raga Buba ci piace molto Ah, guarda lì La piantina sta piccando Si sta là sopra Venga Livello 3? Wow Che scudo sta per finire Mi vado da Venga Un amore di pro Ah bello Sì 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 Poi Venga Ok Venga Ok Non senti questo Ragazzi Sta quell'altro Oh, un po' di grosso Deccati queste piantine, bastardo Nice BANG Nice, nice La signorina Zaira Erbetta Bubba ci piace Ci piace assai Ci piace assai Salviamo noi Mamma lui, che bella barba che tiene Cura Sì, si viva, si viva Tappo C'è un problema A disposizione Noi ci sono scrigni, cose nascoste qua in giro da qualche parte, no? Tra l'altro abbiamo la barra piena praticamente tutti Buono Qui c'è un oggetto Andiamo a vedere C'è un po' di grosso Uniti Uniti Andiamo di qua Arriviamo amici Arriviamo Non, oi, 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 oi oi, guarda, 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 guarda. Capitan Diopin Gordo Diopin Amici Non Non ti bello, non mi bravo. Let's go Teniamoci il super mega attacco per un eventuale boss Ti immagino arriverà da un momento all'altro Stiamo per questi Ecco qua appunto Tiè beccati questo Bang, bang, bang Bang Out E ecco qua V-Bars Bang Nice 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 Ok questo combattimento mi dà troppa soddisfazione Gli abbiamo fatto a pezzi Nice fight Nice fight Ah non l'abbiamo finito Quindi probabilmente ho consumato la Super mega attacco No sta solo camminando Quindi forse Oppure no Guarda qua Altra gente Ok andiamo ad aiutare questi altri Cos'è quello? Ah la pietra Andiamo a salvare quegli altri Cos'è questo? Ok minigame praticamente figo mi dai mi sa che è un sigillo sono abbastanza sicuro io però ho visto la sopra in cima uno stigno non so se l'ha preso almeno tre volte e invece io no ok adesso let's platforming visto ecco qua visto questo bene proseguiamo proseguiamo nella nostra missione cos'è quella lucina quale lucina quella viola che ho preso è una quella viola è un log praticamente un collezionabile un logina blu non lo so la chiusi stava la no 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 e no no botte ne ha preso questo venga che male buon dato link time 100 per cento in time ok ok pure l'occo'n altro Wattoo Ah... Sì... ... ... ... ... ... ... l'ho visto quello stava dire all'altro un botto di mazzata arrivate le cure prontamente mi piace l'intelligenza delle parti mi piace un sacco non c'è un sacco di mi stade di un attacco banger sto stronzo au minchia sono morto bene ok ok rapidi tap ogni button to recover va bene old bion e party member in critical condition to rescue perfetto ok va bene sta posto sta posto siamo qui not so fast pink attack bang fiorellino per te ottima ottima devo stare più attento ai link attack ne sto mancando un sacco ne sto mancando c ne ok perfetto allora prima di andare da mina san voglio vedere la lucina blu che diceva mano sui tetti che non l'ho vista lucina blu sui tetti lei è poisonari praticamente si ah eccola non l'ho vista e sono oggetti una tempest stone nel caso specifico salve signor oricchio Grazie a tutti. Sì, si vorrei dare un campo di goblin. Let's go. Dancho. Subito. Ok. Ok. Io, io, io. Andiamo, andiamo. Spare, sparare, picchiare, distruggere. Raka, non pilota. L'arcipe levo questo. Le pietre per salvare. Zega grande. E Eugenio, va bene. E il dancio capitano, va bene. Bellino questo posto. Salve, SeroCarte, il mercante d'arte. SeroCarte, va bene, 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 va bene. Allora, intanto, salviamo la partita. Climate Donson, non ce ne stanno. Ok, questo per comprare sta roba. Blacksmith, sigils che... Oh, sigils, there, sigils, there, the strong trait of, va bene, fin qui. Upgrade weapon, se non abbiamo l'intenzione di far l'ora. Upgrade sigils, se non abbiamo l'intenzione di far l'ora. A posto. Let's go. Lamerò. Che bel posto. Allora, come sono contenti, sti goblin. Guarda, 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 guarda. Qua c'è una spina. Ara, ara. Check, check, watch. Ah, è il coso che cercava il tizio. Sì, sappiamo anche chi. Non l'avevo visto mai, non l'avevo visto, per puro caso. Ok. Beh, sicuramente hanno il loro champion che vorrà scufflare con noi, no? O no? Tra l'altro possiamo cominciare subito col full burst, mi sa. Dei piedi, dei piedi. Credo sia nervoso. Ok. Uh, uh, calma, calma, calma. Allora, io cominciare subito così. Cominciamo proprio di prepotenza. Full burst! Buono, dai. Il 10% li abbiamo tolti. Come inizio non è male. Ha schiamato gli amici, sto coglione. Facciamo che schiatti, che dici? Ok. Scine. Let's go. Madonna, che dodge. Meraviglio di me. No, 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 no. Incazzato, eh? Ehm, non è così che si usano gli scudi, sai? Non volevo diritti questa cosa. Aia. Overdrive. Ah, interessante. Ahia, l'ho presa in faccia proprio. Ahia. Sono leggermente schimmato. Oh, gen, grazie. Oh, gen, grazie. No. Bang! Link time, nice. Testatelo male. Abbiamo quasi un full burst in my one. Che cazzo? Aia. Oh, che c'è un po' di giro. Buono. Ma non come dà lui, per cui io attenderò che anche gli altri siano in burst. No, perché sei partita? A questo punto. Se ne è partito uno. Partiamo anche noi. Ah, c'è un tirato, perfetto. Ottimo. Full burst. Bang. Absolute zero. Ah, quindi il tipo di full burst cambia a seconda da chi inizia la chain. Bellissimo. Bellissimo. Questa cosa va studiata poi nel momento in cui gioca a multiplayer per chi far cominciare la... Il posto, l'attacco. Bellissimo. Bellissimo. Au, 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 che male, che male, che male. Aia. Oddio, che sta succedendo? Ah, in overdrive, porca troia. No, 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 no. Ah! Aiuto! Ah, 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 ah. Concentriamoci un secondo su questi, ah. No, no, no. Che palle, ha rotto i coglioni, boss. Ha proprio letteralmente rotto il cazzo. Oh, ah, 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 ah! Dio si anche tra core Sims microcoside. Ah, ah, ah. Ah ah, che male, wise smile perdam. Ah ah, ah, ah ah. Ah ah, ah ah. Ah 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 ah, ah ahogenea. Ah um ah 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 ah... Ah 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 a feathers. Ah 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 ah. Ah, fottuto Su di merda Eh No cazzo Manca del link attacco Vaffanculo a me Ah, sì Ok C'è ancora un cazzo di Goblin Soldier Dei coglioni Ok Dai, questo è morto Abbiamo quasi di nuovo un full barco E partiva Vai Rosetta Vai Rosetta Un cazzo di non c'è ancora bro Mancazione Un po' che c'era più Giusto in tempo Madonna In tempismo Bang Un po' che cazzo di Oggi gli altri rompigoglioni Oh nice quanto male No vattene subito Oh no non c'è caccia da sopra Perché c'è un mestronzo? Non si usa così lo scudo Allora Ah Nice Spang Let's go Let's go Scappatevene bastardi Bingo Bingo Eh ciao Sì guarda Lo sto facendo le tempeste titaniche Questa isola ma È un problema di quell'isola Dovrutto In pensi Sì guarda 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 Molto bene Chapter 3 Sì guarda Sì guarda Sì guarda Sì guarda Sì guarda Va bene Level up bari Ehm Che cosa voglio giocare Che cosa voglio giocare Tipo questo lo vorrei provare pure per esempio Devo ancora provare questo personaggio Ah questo volevo vedere anche un'altra cosa ma Se io volessi Skills Rosetta Assigning skills Va bene Ma se io volessi vedere tipo le combo si può in qualche modo One more break Ok Inventario Coop settings Che c'è in coop settings? Ah ok Player list You can view the profile Follow them Ok bello Edit profile Ok va bene Poi me le guarderò queste cose Va bene No io volevo capire se c'era un modo per vedere Tipo delay No Character details Così mi fassero vedere i personaggi Ok non c'è quindi Ah command list Eccola qua Hold per presentare una cosa Va bene Quadrato triangle Oh queste cose volevo vedere io Quadrato quadrato triangolo Cura Quadrato quadrato triangolo Buff all'attacco Ok Per guardare Perfetto Ok quindi triangolo è quello Defesa up Attack up La cura è con due quadrati e un triangolo Va bene Perfetto Ok grazie Questo volevo sapere Mi sembra di capire che ci sia un po' di vento Così eh Occhio croce No se non vuoi fare niente Ok Very good Very good Salviamo Andiamo ancora un pochino avanti Anche se io dovrei teoricamente staccare e uscire Ma fa niente Uscire da una mezzoretta Oh calmi però Non rompete tutto Saldi Saldi Molto bene C'è del vento Che figata però President Salve Buonasera Come stai Tutto a posto Che si dice Che si dice Che si dice Come stai Wow 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 Calmati Comunque io ho visto questo vaso aprirsi prima Ah Chi c'è qui dentro Questo cos'è Omen's stones Che mi fanno Ok Ok Mi sta piacendo Molto Molto Mi sta piacendo davvero tanto Tu conosci La pretensione di prenderlo Ci stai giocando già Che ne pensi Quindi sconfiggi Tutte le Ok Proviamo My guess Non ce la faremo mai Nel 15 Ciao Ti stai pensando Per me merita molto Sinceramente Per me merita davvero tanto Ouch Yes Ouch Era un livello decisamente troppo alto Ma proprio decisamente troppo alto Per farli No no Boom 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 Un caff Ok nice Mettiamo una pura Nel dubbio Aià 2 3 Start up Figura Gli altro? No? Morti? Very good Così ci piace Let's go un fantastico scrigno con dei fantastici soldi e delle pietre glitterate ma se mai te di distruggere tutto sto cazzo di posto e che palle ce la faremo o no risco risco sta crolando tutto arrivo amici arrivo non credo che sia la voce di F assomiglia però easy arara soldi very good qua continua ad esserci questa cosa che non mi comincia per niente e infatti ce n'era anche uno prima vaffanculo vaffanculo era un cazzo di Mimic pure prima mannaggia me lo sono perso vabbè pazienza dicevo io che c'era qualcosa sotto quel vaso quello cos'è fai un altro di queste ok 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 5 6 let's go let's go siamo troppo bravi a fare stimo game in compenso ho visto la sotto uh critical hit rate 2 bello ho visto la sotto uno scrigno però che non mi sembra di vedere uno scrigno eh sì c'è un sacco di cose nascoste in questo gioco bello mi piace ok oh tu ciao 1 2 3 4 e sbang addios il caso è già immaginavo valla tutto va tutto giù via 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 aspettateli amici voglio esplorare oh no stiamo ignorando bellamente va bene ci sta mi sembra giusto via via bello bello guardiamo va nel dubbio ok che figata però dai guarda che bello sta scena c'è wow sento diamazza stiamo arrivando a a a a a a a a E' un centauro farfallo E' un cent... Un farfallantauro Ma cos'è? Un farfallantauro Furicane! Oh no! Furicate! Allora, cominciamo con... Come prima cominciamo subito con questo Fulvart... Aia Ok possiamo Possiamo Aia Targetare Le gande Interessante Aiuto Yes Oh no Oh no Oh no Falle Nice Ouch Aiuto 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 Che figo lui si lui è c'è il centauro fatino Il fantauro Il Aia Aia 1 3 4 Bang No 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 Via di qua Grazie Ok Ok 1 2 3 H H Nice Oh cazzo ma quella è morta Dove la disse è morta? Ok la sono prendendo Chi ha dello stronzo 3 4 Nice No via Aia Ouch Sento leggermente preso in mezzo Dove va? Oh no è diventato quella cosa Il fantauro Sì il fantauro Esatto Eh no 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 Via di là Neh 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 Mi piace giocare e vivere pericolosamente a me eh Un scudo Bang Vabbè tu che cazzo vuoi? Da dove arrivi? Vabbè Di nuovo Trasfigurazione Ok Ma è un È un Cos'è? Mandate le componenti Aiuto Io Sera una sega ovviamente Stato per il tuo caso No 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 Devo uscire Devo uscire Non credetemi come ho scoperto quella cosa Non lo so Vang Vang Full barstop Full barstop Vang Fighissima questa boss Molto Molto Non credetemi come ho scoperto Non credo non deu breve a questo Contrere Break Un, due, tre, quattro Bang Ahia Ho fatto una cazzata gigante Grazie per le cure Grazie Ayo No, no, no Ah Uno, due, tre Bang Attack up Poi Uno, due, tre, quattro E prende Break di nuovo Che palle No, stai calmo, eh Stai calmo Stai calmo Mi prendo un cazzo di ammigli Che attacco Stai calmo Calmo Rilassati, due secondi Ahia Ahia Eccolo Ok Stai calmato? Puoi cominciare a prendere botte No, 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 no Aia Basta Meno male che sono fuori da quel cerchio Meno male che sono fuori da quel cerchio Quattro Io avrei anche Il colto ma No, è lo schimato però We're lucky cats No, no, no Fuori Nice Hai Da poco posso anche fare Il burst 1, 2, 3 Attacca Oh, ecco Lo parte Dovremmo Killer lacrini Dai Rosetta Bangs, bangs, bangs Verrugina per te Full bar Let's go Raga, bellissima Troppo divertente No, ecco Oh, ecco Oh, ecco Ecio L'acqua Bebbrà O Oh E' Certo Eto Certo Poi Vero E' Che To Ruby Red Oh no Quindi sono questi stronzi che stanno controllando Questi affari Interessante Dai caccia il Bamut Caccia il Bamut Ho detto io E' una Pokeball Girl Lo sta catturando sicuro Ho detto io E' una Pokeball Girl Lei è la destratrice di Pokemon Definitiva Assorbe ste peste primordiali Fa sti affari qua sti cosi E' una cosa Oh Ruria Ruria E' una cosa E' una cosa E' una cosa Che bella Lo spadeviola Zabusa lui Mittengrit? Si paga il Mittengrit? E' caro pure No Non so da fare Ho prontato il ristorante Vai Zabusa facci vedere di che sta fare Di che sta fare? Facci vedere che sta fare Zabusa Non si è fatto una sega di niente Aia che dolore No 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 Non mi avrai Non mi avrai Non mi avrai Non mi hai avuto bastardo Aia che male E' evidente questa è una fight Che dobbiamo perdere per forza Perfetto di Dio Aaaaaah Catalina Qua te ne lo possiamo non poterare giù Oh E' un po' l'altra Bubba Zabusa eh O si occhio croce Bubba è andata Bang Bianchiaio Io Come cazzo si chiama lei E' la mia volta Ouch E' la mia volta Bang Spada rotta Vestitino strappato Ehi Ciccio Zabusa Calmo calmo Sai No che strappi i vestiti Fai cose Che di cazzo Di che di essere E' arrivata La papessa E' arrivata la papessa E' arrivata la papessa Un po' di volgare E' servito di rioirida Quanto da Scena zafiga Mi sapere No Non vorrei strappare i capelli Però Fa male Se Diri i capelli così Doloroso Lilith Lilith E' E allora andiamo insieme no? Volemo sebbene Bella minigonna comunque Bel vestitino generale devo dire La signorina Lilith Molto carino questo vestitino Mi piace Vai vai Lucero Bang Stai al tuo posto Bastardo Comunque Character design top Bellissimi Salve Bamuth Lo voglio incazzare di nuovo Counter spell Counter spell Decisamente counter spell Omae va Scinde E niente Mi ha counterato il Bamuth Come si fanno queste cose Guarda tutta l'armatura rotta Ma come devo fare io Scusami Devo spendere soldi Riparare l'armatura Ma se i soldi crescessero Ma leggiate Commander Comunque Lei Che Quante Lởi Little Berluscon Le Ran Lởi Per Lheri Salve Mijita E niente, pure i sensi di colpa Ma io non lo so, guarda E niente, pure i sensi di colpare Luria non lo so, guarda 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 Ok, io vorrei salvare però questo punto Devo comunque portare fuori il cane Quindi io vorrei capire se c'è un salvataggio automatico o qualcosa del genere Qui stanno criticando fortissimo Chita Qui la Catalina Era uno scontroscriptato, dobbiamo perdere per forza La scontrazione Ma che la scontrazione Calma di Qui stanno incontraendo la scontrazione Ma non lo so, guarda Questa, guarda Questa, guarda Guarda Questa è sicuramente La scontrazione Questa sta No, guarda Tappo? Tappo? Fretknot? Madonna, quanto tempo mi senti con Fretknot? Ti parla però Oh no Un nuovo personaggio, let's go Ha un nome, cazzo E vai Questo presente è Frankie di One Piece Sì, vuoi uscire, lo so, un secondo Aspetta, aspetta Aspetta Trappo giù Trappo giù Trappo giù Trappo giù Trappo giù Trappo giù La potenza è forte, lui, sì, a voglia Usciamo, sì Giana Ah Ah Una spada di Carta pesta Ma, che bel vestitino Parliamone Aspetta Sì, usciamo Sì, Dante, sì Sulla spada di Eos Broken Weaver Con solo Scrappi Forza 50 rubri Ok, grazie Grazie per avermi interpellato nella scelta di questa cosa Dante Dante No No Dante Lascia Mosciamo Cioè, mi sta tirando dalla sedia Lascia Il Mio Maglione Aspetta Manu Chiamalo Ti spiace Per finire Il mio microfono Grazie Allora, fammi salvare E non posso ancora salvare, tra l'altro Io vorrei se lo salvare, ragazzi Non dovrei fare altro Will Saver Ce la faremo Dove c'è il rustico gigante di cui abbiamo parlato in inizio live Assolutamente sì Ok, parliamo con Cosa qua D'Eugenio Voglio salvare Sì, va bene Non è colpa tua A posto Per favore Dammi la possibilità di salvare la partita Comunque il nuovo vestitino è molto figo New shop Feature available Blacksmith Ok Va bene Lo faremo subito Dopo La prossima volta Oh, alleluia Sistema Salva Yes Very good Sicuramente è meglio quelli di prima Sicuramente Ok Ehm Adesso Volete uscire adesso Quit game Ok Che dire ragazzi Questo gioco è una figata turbo fotonica Mi piace tantissimo C'è ma veramente tanto 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 mi piace Volevo un jrpg così bello da parecchio Parecchio tempo e non ne trovavo Ed è finalmente è arrivato E' arrivato Finalmente Porca troia Alle fucking luia Alle fucking luia Ok Detto ciò Io come avete visto c'è il cane che mi sta torturando Che vuole uscire Quindi devo uscire prima di subito Ehm Pertanto dovremmo ridare qualcuno Perché Sì Ma non c'è nessuno dei nostri live Today Non c'è nessuno dei nostri in live Male male Abbiamo qua ragazzi Abbiamo qualcuno da Qualcuno da salutare Qualche amico Che se no Rimango sullo stesso gioco Vado a ridare qualcun altro Vediamo Qualcuno da ridare che sta facendo palward C'è Quindi se non abbiamo nessuno Andiamo Da qualcuno che sta facendo palward Eh sì palward Granblue fantasy Perché dei nostri Della nostra community Non c'è nessuno in live In questo momento Male male Molto male male Più che altro Perché non so Chi guidare Altrimenti Va bene Ne prendiamo Ne prendiamo uno a caso Sperando che Controlliamo magari prima Che abbia La chat Non solo follower Perché poi mi scoccio Tipo Costui C'ha la chat Solo follower Sì Vediamo quest'altro Vediamo quest'altro Dove sta? Ecco Chat solo follower Anche qui Niente E anche magari Non stanno staccando Infatti sto aprendo le live Appositamente per questo motivo Appositamente per questo motivo Allora Questo Non ha la chat Solo follower Ok E in live Da un paio d'ore Non so se Se sta finendo Oppure no Ma comunque Andremo da questa barzona Non so chi è Ma sta facendo Granblue Quindi se vi stavate Se volete continuare a vedere Questo gioco Vi mando da qualcuno Che lo sta portando Ride Ecco qua Bene Andiamo a salutare questa persona E vediamo un po' Come sta andando lui La sua avventura Noi ci vediamo Noi ci vediamo Mercoledì Mercoledì Sì A continuare Granblue Fantasy Ovviamente Perché adesso Ormai è una questione Proprio di Amore Già E siamo già innamorati Di questo gioco A me Raga è piaciuto tantissimo È piaciuto il combattimento Tanto È piaciuta la grafica un sacco La storia potrebbe essere interessante Quindi Stiamo a vedere Stiamo a vedere E continuiamo mercoledì Io vi auguro Buona serata Grazie mille per la compagnia Grazie a Ruben per il ride A Max per il follow E ci vediamo Mercoledì Abbiamo detto sì Mercoledì Un saluto fesso da tutti Per chi conosce Vodka Oggi è il suo compleanno Quindi magari andate a fare gli auguri A mandare un messaggino Qualche cosa E basta Bye 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 bye